Abbiamo avuto tanti anni di difficoltà, c'è stato anche un momento, come dire, che si è messo in dubbio la possibilità che questa società potesse continuare. Bene, oggi possiamo dire che la società è sana, forte, continuerà, lavorerà, lavorerà per il bene della città e non solo della città ma anche della Liguria e naturalmente di chi ci abita. Abbiamo affrontato molti problemi, li stiamo risolvendo, molti incarichi sono arrivati, il nostro grafico indica la nostra crescita negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Siamo partiti da lavorare con la società per Cornigliano che ha messo a disposizione tantissimi milioni di euro che il Ministero aveva devoluto a Genova per risanare l'area Ilva e fare tutte le attività necessarie per rendere quell'area coerente con la città. Bene, oggi c'è la strada mare, stiamo collegandola con la sopra elevata e a gennaio assegneremo i nuovi lavori che collegheranno la strada mare all'aeroporto e ad Erzelli, area di grande sviluppo e di grande importanza per questa città. Stiamo lavorando per il Comune, una delibera è stata fatta dalla Giunta pochi giorni fa dove incarica i tecnici di utilizzare e sfruttare il sviluppo Genova per quanto riguarda la liquidificazione delle periferie, per quanto riguarda il blueprint. Stiamo collaborando con Amio, tutta una serie di attività, valorizzazioni, direzioni di lavori, sicurezza, ambiente. Stiamo lavorando con IRE, una collaborazione importantissima per l'ospedale di Spezia. Stiamo collaborando con una serie di società pubbliche, con Aster e altre lealtà locali e non. Dunque questa è una grande soddisfazione, finalmente possiamo dire che noi nei prossimi mesi dovremo assumere persone a tempo determinato, che naturalmente come sanno tutti a tempo determinato vuol dire utilizzarli per un progetto e poi finito il progetto purtroppo lasciarli a casa ma non è neanche detto. Stiamo lavorando con una grande correttezza, bene abbiamo fatto spostarci nel centro storico, stare in mezzo alla gente, alla gente che lavora e far capire che c'è un'idea dell'amministrazione, della città, una volontà dell'amministrazione a crescere, a migliorare e far sì che tutto si tramuti in un'attività forte e dare del lavoro e creare quelle condizioni che purtroppo oggi non ci sono di opportunità per il futuro. Noi stiamo mettendo in campo molte idee, molte capacità professionali, i nostri dipendenti hanno dimostrato passione, voglia, professionalità e proprio grazie al loro impegno che siamo riusciti ad essere quello che siamo oggi, siamo apprezzati da tutti e ci viene riconosciuto da tutti l'impegno e il lavoro, anche da quelli che fino a ieri probabilmente non ci credevano. Bene, oggi hanno cambiato idea anche loro, la società funziona, funzionerà e speriamo per il bene della città e di chi ci abita.